Dalla collaborazione tra Giovanni Gastel e Gianpaolo Prearo è nato un prestigioso progetto artistico ed editoriale, un libro intitolato The Body, confessionato in forma di cofanetto, contenente 35 fotografie selezionate dallo stesso autore fra le più importanti del suo archivio. Il loro intento è quello di trattare il corpo delle modelle non solo come immagini da copertina ma come esantazione della femminilità. In ogni coppia è inserita anche una polaroid originale firmata e corredata di certificato di autenticità dello stesso Giovanni Gastel. A sottolineare il pregio dell'opera vi è la presentazione del critico Vera Agosti e un saccio filosofico di Francesco Corregia. Robert Wilson, il famoso recista ed artista, ha elaborato un testo per l'occasione, un vero e proprio inno dedicato a Giovanni Gastel, scritto a mano, riprodotto in copia anastatica. Il libro ha una tiratura di sole 150 copie, numerate e firmate, con sicillo in cera lacca dell'editore, a testimonianza dell'autenticità e unicità dell'opera. Un'opera di grande prestigio artistico ed editoriale che non può mancare nella vostra collezione.